Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video. Oggi video riepilogativo delle letture effettuate durante il mese di febbraio. Io ero rimasta già molto soddisfatta dall'esperienza letteraria fatta durante il mese di gennaio. Febbraio è stata una sorta di conferma, ho continuato su questo filone di letture che avevo già scelto durante il mese di gennaio e ne ho scoperte altrettante molto molto interessanti. Devo dire che la maggior parte delle letture che ho effettuato alla fine, quando ho stilato un po', ho raccolto le idee prima di fare il video mi sono resa conto che avessero una sorta di filo comune, di filo conduttore comune, che da un certo punto di vista è stato casuale e da un altro punto di vista è stato assolutamente voluto. Sono state letture tutte scelte e assolutamente, come dire, ponderate. Il primo titolo che ho letto, comprato e letto praticamente subito a febbraio è stato L'Isola delle anime di Johanna Olmström, edito Neripozza. L'Isola delle anime parte da un presupposto reale, ossia un luogo realmente esistito. L'autrice ci racconta di un manicomio, di un istituto tutto al femminile, che si trova situato ai limiti dell'arcipelago finlandese. Siamo in Finlandia, siamo nel 1981, la storia si apre proprio in quell'epoca e si apre con una delle tante protagoniste femminili che ci viene raccontato in questo libro, ossia Cristina. Cristina è una giovane madre che si trova a vivere una situazione molto molto disagiata nella sua vita, sta attraversando un periodo difficilissimo ed è praticamente sul crollo di un esaurimento nervoso. Ha due bambini molto piccoli, una bambina di 4-5 anni, è un bambino, un maschietto che neanche cammina, è proprio piccolo, e in questo momento in cui ci viene raccontata la storia è Sola. I suoi genitori le sono lontani, non l'hanno appoggiata nelle scelte di vita che Cristina ha fatto, e il suo compagno di vita è lontano, è lontano per necessità, perché Cristina e il compagno hanno una vita povera, veramente misera, vivono in una baracca fredda, umida, dove le condizioni igieniche non sono neanche delle migliori e quest'uomo per cercare di poter offrire un futuro migliore ai suoi bambini parte per trovare un lavoro. Cristina si ritrova sola, si ritrova a vivere la sua quotidianità, il suo stress, la sua solitudine, la sua paura di non riuscire a dare da mangiare a questi bambini completamente da sola, con questi due piccolini che le girano intorno e che sono bisognosi di affetto, di attenzioni, di amore, ma soprattutto di cibo e salute. Un giorno Cristina, mentre sta rientrando e sta remando sulla sua barchetta, sta tornando verso casa ed è sul fiume Aura, Cristina è come se uscisse dal suo corpo e commette un gesto che, a dir poco riprovevole, è anche incomprensibile per certi aspetti. Cristina, mentre i suoi bambini dormono nella barchetta, prende questi due fagotti e li adagia sul fiume, li lascia trasportare dall'acqua, li abbandona e rientra a casa, come se avesse abbandonato la zavorra della sua barca, come se si fosse liberata di un fardello. Lì per lì non si rende conto del gesto che ha commesso, se ne accorgerà solo la mattina successiva, quando una volta sveglia cercherà i suoi bambini nei loro lettini e i lettini saranno vuoti. A quel punto Cristina piomberà in uno sconforto veramente allucinante e profondo, un dolore intimo viscerale che le renderà incomprensibile il gesto da lei stessa commesso. Le autorità ovviamente vengono a conoscenza del fatto, viene ritrovato il corpo della piccolina e Cristina non viene però portata in carcere, ma piuttosto viene inserita all'interno di questo istituto di igiene mentale, questo manicomio, perché il suo equilibrio psicologico è veramente precario. Viene ritenuta incapace di intendere e di volere nel momento in cui ha commesso quel gesto che lei stessa rinnega, non lo ricorda esattamente cosa ha fatto e viene quindi rinchiusa in questo manicomio. 40 anni dopo l'ingresso di Cristina all'interno del manicomio saranno tante altre le donne che faranno parte di questo stesso edificio, tutte donne che si sono macchiate di qualche crimine o di qualche gesto veramente efferato, violento, strano. Donne che sono state anche per certi aspetti inserite volontariamente dagli stessi genitori. Questo per esempio è il caso di Ellie. Ellie è una giovanissima ragazza che ha rubato, che si è macchiata di atti osceni in luogo pubblico. Una ragazza strana, una ragazza che è particolare, molto particolare. I genitori, non riuscendo a gestire il suo modo di fare, il suo modo di agire, preferiscono inserirla all'interno di questo manicomio. Ellie è convinta che ci starà per un po' di tempo e che poi, una volta guarita, se così si può dire, poi verrà ripresa dalla sua famiglia e tornerà a fare la vita di sempre. Quello che invece si percepisce forte all'interno di questo romanzo è la speranza manchevole nei confronti di queste anime, di queste anime letteralmente che sono recluse in quest'isola e che vengono dimenticate. Perché mentre il mondo fuori continua a cambiare, continua ad evolversi, succedono delle cose, all'interno del manicomio, su quell'isola, il tempo è come se fosse fermo, su statico, come se queste donne fossero all'interno di una bolla e nulla cambia all'interno di quell'edificio. Le colpe di cui si sono macchiate, via via che il tempo passa, andranno sempre di più a scalfire il loro animo e imprimersi nel loro essere. Queste donne sanno in realtà che non c'è una via di fuga, sanno che ad attenderle fuori da quell'edificio non ci sarà più nessuno e il loro destino è solo uno, unico e solo, quello di fare un cammino di redenzione, di cercare di perdonarsi loro stesse, di attraversare intimamente la loro coscienza e il loro animo e cercare di fare un percorso di redenzione dolorosissimo ma in solitudine. L'unico personaggio, l'unica cosa alla quale queste donne si aggrappano, l'unica vera speranza che dà un respiro proprio a queste donne è il personaggio che poi va a chiudere le storie di questo romanzo ed è una delle infermiere che si occupa di queste donne, la quale non ha mai smesso per un attimo di dare compassione a queste donne e di offrire una spalla sulla quale piangere e appoggiarsi. È un libro dolorosissimo, un libro che ho letto tutto d'un fiato, nonostante il dolore profondo che percepivo, è un libro in cui si scava moltissimo sul peccato, sulla colpa e sul concetto di appunto di redenzione. Un libro che vi consiglio tantissimo di leggere, se non l'avete ancora recuperato, perché è una di quelle storie forti, veramente forti, ma che lasciano un segno. Quindi super super consigliato. Stranamente, caso vuole, perché questo non è stato programmato, quando ho scelto la mia successiva lettura, che riguardava una delle challenge a cui partecipo, che è la Reed Christie 2019 dei Radical Ginge, mentre leggevo mi sono ritrovata all'interno di un'atmosfera che per certi aspetti mi ha ricordato l'isola delle anime, anche se in modo diverso. Quindi mi è piaciuta l'idea di cominciare a tracciare le fila di questa tematica, che poi si è perpetrata anche nelle letture successive. Per la Reed Christie 2019, questa volta per il mese di febbraio, dovevamo scegliere un titolo con protagonista Miss Marple. Io ho scelto Giochi di prestigio, ovviamente di Agatha Christie. Allora, la storia, anche in questo caso, come vi ho detto nel video scorso, essendo un giallo non posso addentrarmi molto nella trama. Vi posso dire però che è stato un titolo validissimo, per me, per la mia esperienza. La storia parte da un colloquio che Miss Marple ha con un'amica. Un'amica che l'esprime una sorta di preoccupazione nei confronti della sorella, che vive in una villa vittoriana insieme al suo nuovo marito, perché lei era rimasta vedova, si è risposata e insieme a questo nuovo compagno è andata a vivere in questa tenuta veramente immensa vittoriana. La sorella, l'amica anche di Miss Marple, è molto preoccupata per Carrie e le dice appunto di recarsi lei stessa, essendo una vecchina da un'intelligenza molto, diciamo, spiccata, alla quale non sfugge nulla, le chiede la cortesia di recarsi lei stessa in questa tenuta vittoriana per vedere se la sensazione che lei ha sia effettivamente reale o sia solo frutto della sua immaginazione. Miss Marple l'accetta, si reca in questa tenuta meravigliosa e fantastica che è descritta, veramente le atmosfere che descrive Agatha Christie sono sempre uniche e arriva e si trova ad essere accolta non solo dai proprietari di casa, quindi da Carrie e dal nuovo marito, ma anche da tantissimi familiari e parenti che si trovano lì e soprattutto da un gruppo di personaggi che sono veramente strani, sono un gruppo di delinquenti. Cosa ci fanno un gruppo di delinquenti all'interno di una tenuta di due persone così perbene? La coppia ha deciso di aprire all'interno della loro tenuta una sorta di luogo per redimere anime che hanno commesso un delitto e questa redenzione avverrà attraverso l'arte, quindi spettacoli teatrali. Quindi questi delinquenti sono lì e si stanno accingendo a praticamente allestire degli spettacoli teatrali aiutati dallo stesso marito della proprietaria di casa, della signora Carrie. Miss Marple da subito chiaramente storce il naso di fronte a questo scenario, però molto curiosa, rimane nelle retrovie e osserva ciò che accade, osserva personaggio per personaggio. La cosa molto interessante di Miss Marple rispetto a Hercule Poirot che invece, essendo proprio un investigatore, entra nel vivo dell'investigazione e pone il lettore su un piano d'ottica differente, Miss Marple resta per tutto il tempo della narrazione nelle retrovie avvicinandosi invece molto di più ai singoli personaggi e quindi offrendoci un'ottica, una visualizzazione completamente diversa rispetto a Hercule Poirot. E questo è stato un aspetto che io ho apprezzato moltissimo. Lei quindi si avvicina a ognuno di questi personaggi e comincia a indagare. Ovviamente di lì a poco qualcosa accade, ci sarà un omicidio e sarà un ispettore a dover risolvere il caso. Aiutato chiaramente dall'intuito di Miss Marple che attraverso un ricordo, un'illuminazione per associazione perché penserà proprio a un famosissimo gioco di prestigio, riuscirà a risolvere il caso. È stato godibilissimo, un romanzo piccolo, brevissimo, letto praticamente in una giornata e non vedo l'ora di proseguire perché stiamo continuando a tirare fuori tutti i titoli di Agatha Christie nella speranza di continuare appunto ancora a leggere cose veramente meravigliose durante la Reed Christie 2019 dei Radical Ginge. Se non partecipate, fatelo su Instagram perché merita veramente. Andiamo avanti, andiamo avanti e continuiamo su questo filone, sul filone un po' psicologico, un po' indagatore. Ho scelto di leggere un titolo che mi aveva ispirato da subito, dalla sua uscita. Si tratta di Piccolo Mondo Perfetto di Kevin Wilson, edito Fazzi Editore. Perché continuiamo sul filone psicologico? Perché questo è un vero e proprio esperimento psicologico. La storia è quella di uno psicologo, il dottor Preston Grind, il quale è stato figlio a sua volta di due psicologi, due psicologi che l'hanno cresciuto con un metodo educativo a sua volta sperimentale, il medico, il metodo educativo della frizione continua, ossia mettere in difficoltà un bambino sin dalla sua più tenera età. Questi due medici sostenevano che la vita è una vita dura, una vita difficile, quella che l'uomo poi d'adulto si ritrova a vivere, e che non è assolutamente opportuno per un bambino crescere nelle fasce d'oro per poi ritrovarsi d'adulto spaisato di fronte alla crudeltà e alla realtà che la vita ci offre. Pertanto crescono il loro figlio Preston proprio mettendolo in difficoltà sin da subito, sin da quando è nella più tenera età e facendolo così diventare un uomo pronto al suo futuro, secondo loro, chiaramente. Preston Grind si ritrova adulto a fare anche lui lo psicologo e a rendersi conto in base alle vicissitudini della sua vita che non posso spoilerarvi chiaramente, si rende conto che lui ha una necessità impellente, ossia quella di scavare a fondo sul concetto della famiglia. Qui la famiglia viene proprio sezionata e sviscerata nei minimi dettagli. Decide di creare proprio a tavolino una famiglia, lo chiama Progetto Famiglia Infinita, proponendo a nove coppie di partecipare attivamente a questo progetto. Andranno a vivere all'interno di una struttura che è stata gentilmente omaggiata da una donna che a sua volta anche lei ha un passato familiare particolare e che è una donna molto benestante che mette a disposizione del medico i finanziamenti per poter mandare avanti il progetto e propone appunto queste nove famiglie che sono tutte accumulate da un'unica cosa ossia disagio economico e sono tutte in attesa del primo figlio. Queste famiglie si ritroveranno a vivere all'interno della stessa struttura e a crescere i loro figli insieme. Qui si parla di educazione cooperativa. I bambini che nasceranno da queste nove coppie saranno posti tutti in un'unica stanza insieme, dormiranno nella stessa stanza come se fossero fratelli e sorelle e saranno cresciuti da genitori che non saranno solo mamma e papà ma saranno tante mamme e tanti papà. Ognuno dei genitori presenti all'interno di questa famiglia infinita avrà ruolo attivo nell'educazione di questi bambini. Una di queste persone che entreranno a far parte di questo progetto però non è effettivamente una coppia ma è Isabelle, è una ragazza, una giovane madre sola che è incinta di questo bambino che non è stato riconosciuto dal suo compagno. Quindi lei vive una vita assurda perché è povera, è orfana di madre, vive sola col padre, il padre non ha abbastanza denaro per sfamare né lei, figuriamoci un'altra bocca. Quindi Isabelle quando fa il colloquio col dottor Preston Green decide che forse per dare un futuro migliore a suo figlio l'unica via d'uscita è proprio accettare di entrare a far parte del progetto Famiglia Infinita e così accade insieme a Isabelle tante altre coppie cominceranno questa vita all'interno di questo edificio. Le famiglie saranno supervisionate oltre che dal dottore Preston Green da altri medici, psicologi, antropologi che non solo osserveranno i genitori nel loro comportamento e nel loro approcciarsi ai bambini ma osserveranno anche la crescita evolutiva di questi bambini sottoponendoli a dei veri e propri esperimenti sociali e proprio di crescita intellettivi. L'ho trovato un libro anche in questo caso super interessante. All'inizio ero molto inquietata da quello che stavo leggendo. Mi rendevo conto di quanto il concetto di famiglia stava veramente stava venendo rivoluzionato totalmente. La famiglia che da un lato ti può salvare ma dall'altro lato ti può danneggiare ma dalla quale non potrai mai distaccarti del tutto perché la famiglia è quella cosa quell'aspetto che ci rende poi quello che saremo in futuro. Quando abbiamo di fronte un bambino lo educhiamo lo cresciamo è come incidere su di lui su una sorta di disco vergine incidere un messaggio che non potrà mai essere sovrascritto. Quello che imprimiamo ai nostri figli a questi bambini che crescono e dandogli parte del nostro modo di essere della nostra personalità del nostro carattere del nostro modo di pensare e di agire rappresenterà quello che poi loro saranno in futuro da adulti e per quanto un uomo possa decidere da adulto di scostarsi da quell'idea di famiglia da quella famiglia d'origine che l'aveva messo al mondo che l'aveva cresciuto che l'aveva portato avanti non se ne libererà mai del tutto perché quella famiglia fa parte del suo essere del suo modo di essere ripeto è un libro che all'inizio mi ha turbato non poco e all'inizio ero spaisata non sapevo se mi stesse piacendo così tanto effettivamente ma via via che sono andata avanti nella lettura l'ho trovato veramente interessante l'ho trovato un'analisi molto approfondita della famiglia ripeto ma soprattutto in generale delle relazioni umane e del rapporto madre figlio in particolar modo quindi ve lo straconsiglio vado avanti e vado avanti con una lettura che seppur apparentemente non c'entri granché mi sono resa conto anche qui quando mi stavo preparando appunto stavo raccogliendo le idee per fare il video che in realtà c'entra eccome ho letto un altro titolo di Leo Peruz e si tratta di Tarlupin edito ad Elfi mi sono ritrovata a pensare a una cosa in particolare chi è Tarlupin Tarlupin è un bambino inizialmente che viene abbandonato in fasce sulle scale di una chiesa non ha passato Tarlupin è diventato uomo e non sa nulla della sua famiglia d'origine quindi ritorna il concetto della famiglia e ritorna quello che la famiglia è per poi è per un essere adulto poi in futuro lui non ha passato Tarlupin non ha ricordi minimamente lui sa solo di essere stato trovato da una vedova che l'ha cresciuto e ha vissuto all'interno di una sorta di diciamo negozio dove il padre fittizio faceva il barbiere Tarlupin si ritrova a diventare ed adulto un confezionatore di parrucche è un uomo molto strano un uomo che si sente talmente vuoto da cercare continuamente delle risposte cercare di riempire anche attraverso la fantasia e l'immaginazione ciò che gli è mancato cioè l'identità lui davvero non sa non sa proprio da dove proviene non sa è vaga vaga con la mente nella ricerca di spiegazioni è un personaggio molto particolare e questa volta Leo Peruzze fa una scelta differente rispetto ai romanzi precedenti suoi che ho letto che hanno quell'atmosfera magica quella spiegazione metaletteraria che lui ci vuole fornire su eventi storici realmente accaduti qui non è magica qui è molto amara molto profonda e molto intima siamo nella Francia del 1600 e il cardinale Richelieu sta progettando quella che sarebbe dovuta essere una notte di spargimento di sangue dovevano saltare tantissime teste di nobili e doveva avvenire di lì a poco la rivoluzione che poi in realtà fu ritardata di un secolo la spiegazione che Peruz ci dà riguardo a quello che è accaduto è proprio Tar Lupin la presenza di quest'uomo che è l'emblema del fraintendimento Tar Lupin nella bramusia nella ricerca di ritrovare le sue origini ritrovare se stesso spesso si ritroverà in situazioni assurde dove fraintenderà gli avvenimenti fraintenderà ciò che gli accade uno fra tutti i fraintendimenti è quello che guardando gli occhi di una donna durante un funerale di un nobilluomo penserà di essere suo figlio e di avere origini nobili da lì comincerà un percorso impazzito folle di questo protagonista di questo personaggio che andrà a intralciare il cammino di Richaillet e quindi Leo Peruz ci dà una spiegazione su tutte fondamentali ossia che il fato il caso puro perché due personaggi così lontani come Tarlupin e Richaillet che sono agli antipodi si incontrano quando il fato il caso si incontra con la realtà gli avvenimenti che sembravano scolpiti sembravano proprio pronti per accadere in realtà prendono una via una piega completamente differente e quella famosa notte dove dovevano morire saltare tantissime teste di nobili in realtà non si verificò mai ma si verificò molto molto successivamente la rivoluzione francese partì praticamente un secolo dopo un libro che mi è piaciuto molto anche se non ho ritrovato il Leo Peruz come vi dicevo dai titoli precedenti con quelle atmosfere magiche che mi aveva trasmesso con di notte sotto il ponte di pietra e la neve di san pietro una storia molto più amara ma mi è piaciuto mi è piaciuto veramente tanto andiamo avanti e rimaniamo sempre su personalità particolari su atteggiamenti particolari e su relazioni umane però piuttosto che intime e familiari come è stato fino adesso parliamo di relazioni umane incentrata sul mondo lavorativo sto parlando della stanza di Jonas Carson edito ISBN edizioni una casa editrice purtroppo fallita ve l'ho detto tante volte ma io ogni volta che trovo un titolo edito da ISBN a parte che lo potete trovare nei reminders nei siti online a prezzi veramente stracciati io non perdo un attimo di tempo e lo recupero come vi dicevo il protagonista di questa storia è un personaggio veramente bizzarro un uomo che un giorno viene diciamo gli viene imposto di cambiare luogo di lavoro non si capisce se quale sia il perché viene cambiato insomma il suo ufficio viene cambiato ma apparentemente noi siamo proprio nella mente di Bjorn del protagonista della storia Bjorn ci dice ci comunica attraverso i suoi pensieri che sicuramente sarà promosso salirà di grado è un uomo ambizioso un uomo molto meticoloso un uomo che non guarda in faccia nulla e nessuno il suo unico obiettivo è quello di cominciare la sua ascesa al successo del mondo del lavoro non gli interessa niente lui si sente il migliore di tutti il più bravo di tutti e persino crede che la sedia dove sta seduto il direttore del dipartimento dove lui lavora non gli spetti realmente ma spetti a lui è fastidioso Bjorn è un protagonista veramente intollerabile e fastidioso stare all'interno della sua mente non è per nulla facile però è molto interessante vedere e scavare insieme a lui fin dove lui si vuole spingere fin dove vuole arrivare come vi dicevo molto meticoloso molto ambizioso ha una scrivania che divide e questo gli dà molto fastidio con un collega che è il contrario di lui non è ordinato come lui tiene le carte sparse sulla scrivania e lui è proprio a disagio in questo ambiente lavorativo non fa praticamente pause non smette mai di lavorare a tutto contato al secondo gli altri ogni tanto si alzano vanno a bere un caffè scambiano due chiacchiere lui li evita proprio volontariamente ha un atteggiamento stizzoso arrogante superiore rispetto agli altri crede di avere delle capacità che gli altri non hanno e non capisce il perché si trovi ancora lì e non è invece in vette altissime come la direzione un giorno essendo profondamente a disagio per il lavoro per la confusione che c'è sulla scrivania si alza decide di andare un attimo in bagno ma accanto al bagno individua un luogo una porta dalla quale si sente molto attratto decide di aprire quella porta ed entra all'interno trova una stanza che è l'esatto opposto rispetto all'ufficio in cui lui lavora intanto è solo la stanza è super pulita super ordinata e sente immediatamente una sensazione di beatitudine una sensazione di familiarità all'interno di quella stanza e percepisce inoltre di avere delle capacità un intuito più spiccato essendo così isolato all'interno di questa stanza di lì a poco comincia a passarci diverse ore succede però che viene richiamato viene richiamato e gli viene chiesto cosa fa tutto questo tempo di fronte un muro a fissare il vuoto lui non capisce assolutamente a cosa si riferisca né il direttore né i suoi colleghi gli fanno presente che quando lui crede di essere all'interno della stanza in realtà lui è all'impiedi di fronte a un muro bianco dove non c'è nulla non c'è nessuna porta invece lui afferma che c'è una porta a fissare il vuoto e questo atteggiamento chiaramente inquieta i suoi colleghi che li rende molto nervosi lui pensa da quel momento in poi che stanno cospirando qualcosa contro di lui di lì entriamo in un vortice di manie di persecuzioni che sono veramente pazzesche in cui Bjorn comincia a pensare che l'intera struttura stia cospirando contro di lui e contro le sue capacità è un libro stranissimo un libro che ha un sapore kafkiano fortissimo veramente veramente pazzesco che mi ha fatto porre una domanda su tutte quanto un uomo è disposto a spingersi oltre quando ambisce a qualcosa quando ha sete di successo quando decide a tavolino di progettare la sua ascesa al successo anche a discapito di altri certe volte questo ha un questo atteggiamento ha un caro prezzo carissimo prezzo ossia perdere di vista la realtà che ci circonda la realtà dei fatti e rimanere noi stessi intrappolati dei nostri stessi progetti è un libro particolarissimo che si incentra tutto sulle relazioni umane sull'ambizione è un libro che mi ha fatto sentire dentro una puntata di Black Mirror ecco una delle migliori puntate di Black Mirror veramente veramente pazzesco se lo trovate nei reminders nei siti online o nei mercatini non lasciatevelo scappare perché è un libro che inizierete e non potrete smettere finché non l'avrete chiuso quindi veramente consigliato concludo con l'ultima lettura fatta a febbraio riguardante il progetto l'altra challenge alla quale partecipo che è quella della Booktube Italia Legge Indipendente la Btili Reading Challenge per il mese di febbraio la richiesta era una raccolta di racconti ovviamente di una cassa editrice indipendente io ho scelto un titolo lontanissimo dalle mie corde ma proprio perché ero curiosa di sperimentare un genere completamente nuovo che è la fantascienza sto parlando di fiabbe per robot di Stanislaw Lem edito Marcosi Marcos vi dico subito purtroppo che questo titolo è impossibile da reperire molti mi hanno chiesto nel video book haul quando l'ho mostrato dove l'avessi preso io l'ho trovato su online sul sito della Feltrinelli ma mi rendo conto che non c'è più l'ho cercato ma è impossibile da recuperare io spero che lo ripubblichino lo ristampino perché veramente merita è un'opera unica eccezionale allora come vi dicevo stiamo parlando di fantascienza la cosa che colpisce di più guardando la copertina è che ci sono queste due marionette che in realtà si vede vengono praticamente manovrate da queste due mani che sono quasi impalpabili trasparenti e questo è centrale all'interno di questa raccolta di racconti sono 12 racconti e sono tutti ambientati nello spazio abbiamo personaggi stranissimi abbiamo entità robotiche abbiamo elettroguerrieri abbiamo microorganismi si parla di mondi alternativi si parla di pianeti diversi dal nostro però di base anche in questo caso alla fine dei 12 racconti ci rendiamo conto che si parla dell'uomo si parla dell'uomo e del fato del destino che è segnato nel cammino di un uomo e che poco si possa fare poi in realtà noi crediamo di poter intervenire nell'andamento nel corso dell'evoluzione degli eventi ma è come se avessimo due mani impalpabili e trasparenti poste dietro alla nostra schiena che ci manovrano e ci guidano nella nostra vita sono letteralmente delle fiabbe fiabbe che ho immaginato raccontate come a dei piccoli esserini robotici fiabbe dal sapore classico perché ritroviamo tematiche assolutamente conosciute c'è stata una scena su tutte un racconto su tutti che mi ha fatto molto pensare a fiabbe conosciute come quella di una ragazzina che si addormenta cade in un sonno profondo perché ha perso la chiavetta per aprire il suo cervello per aprire la sua mente un guerriero la ritroverà riuscirà ad aprire a dare la carica con questa chiavetta al suo cervello la risveglierà per ottenere il trono ma come questa fiabba ce ne sono tantissime ce n'è un'altra che poi è quella che apre i dodici racconti che è quella che mi ha colpito di più sui elettroguerrieri siamo su un pianeta completamente ghiacciato è in ospitale però nello stesso tempo è ricco e pieno di pietre preziose quindi come potrete immaginare è stato frequentemente invaso per conquistare questi tesori tutte le persone che hanno cercato tutti i robot che hanno cercato di invadere questo pianeta sono morti perché surriscaldandosi precipitavano nelle acque gelide e non potevano ottenere nulla non potevano ottenere i tesori e fare ritorno nel loro pianeta uno di questi elettroguerrieri l'elettroguerriere di quarzo decide di mettere in pratica un esperimento cioè smettere letteralmente di pensare e smettendo di pensare quindi non si surriscaldava e poteva arrivare a toccare i tesori tuttavia viene si trova di fronte a un luminare che gli sottoporrà un indovinello e per rispondere all'indovinello dovrà pensare e pensando la fine sarà quella che voi immaginate quindi è un titolo che mi ha incuriosito moltissimo nonostante sia stato così tanto lontano dalle mie corde però mi ha talmente tanto catturato da spingermi a voler scavare ancora di più in questo filone narrativo della fantascienza e cercare di trovare qualcos'altro che mi possa piacere quindi anche questo anche se purtroppo è di difficile reperibilità se vi capita di trovarlo nei mercatini o in qualche sito magari c'è qualche copia ancora in magazzino prendetelo perché ne vale veramente la pena queste sono state tutte le mie letture fatte durante il mese di febbraio sono stata veramente soddisfatta delle mie scelte devo darvi una piccola anticipazione perché questo mese in corso sta andando altrettanto bene sono molto molto contenta delle letture che sto facendo vi aspetto sempre nei commenti per farmi sapere se avete letto qualcuno di questi titoli se siete rimasti incuriositi da qualcun altro e vi rimando al prossimo video a presto ciao